Immobiliare Borghesan di Mario Cagliani è lieta di proporre questo bellissimo trilocale di Bormio nella residenza Ciuc, venduto completamente arredato. Bagno, camera matrimoniale con la sua cabina armadio, angolo cottura già composto da forno a microonde, lavastoviglie di forno, piano induzione, la seconda camera da letto, predisposizione per il wifi, domotica, divano letto e un bellissimo terrazzo ad angolo che guarda la pista della Coppa del Mondo di Ski, la Stelvio. L'appartamento ha la disponibilità o di un posto auto o di un garage Da vedere Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!